Stasera ci apriamo la nostra divulgazione alla cosa di cui ero negato. Vuoi sapere quanto avevo in matematica io a scuola, Alessandra? Lo stesso voto che avevo in fisica, tre. Ma non ho avuto però un professore bravo come Pier Giorgio o Di Freddi. Professore, vengo alla lavagna anch'io. E vi ritrovato. Ciao, benvenuto. Era un po' di tempo che non ci vediamo. Eh sì, vuoi darmi il libro? Sì, ecco, è meglio che lo legga tu, io l'ho già letto. Posso restare qua a seguire la lezione? Ecco, quello è il posto mio con la matematica di sicuro. Ti abbiamo chiesto una lezione, che per me è una poesia, io te l'ho vista fare una volta a teatro e mi sono emozionato. La potrei fare. Devo ripeterla. Eh beh sì, perché io sono un mostro ripetente. Il numero zero, godetevela perché la lezione del professore Di Freddi sul numero zero... Non vuoi scappare tu. Prendo appunti, cioè servisse qualcosa. Posso copiare? Innanzitutto prendo il gessetto che mi fa ritornare indietro di trent'anni perché ormai... Perché il professor Biccio mi piace così, eh lo so. Eh lo so, lui è un po' classicista, no? Noi umanisti siamo così. Anacronista forse anche, no? Dunque lo zero, naturalmente non so a chi possa interessare lo zero, no? Però se vi dico che è l'analogo di altre cose che ci sono in altri campi, forse poi alla fine uno se ne accorge che magari serve a qualcosa. Per esempio in musica, mi dispiace che Veltroni, che Veltroni, che vecchioni se ne sia andato via, no? Dopo questa cosa vado a sedermi perché mi devo riprendersi. Ci assomigliano, no? Sono tutti e due uomini del passato, no? E dicevo, in musica per esempio, no? Quando uno guarda uno spartito, no? Ci sono delle note. Le note sarebbero come i numeri, però ogni tanto ci sono delle pause. E le pause sarebbero come il numero zero. Se non ci fossero le pause, la musica sarebbe tutto un casino, naturalmente, no? Non si potrebbe fare molto di quello che si fa. Oppure in fisica. In fisica il vuoto, ad esempio, no? Quando c'è il vuoto, no? Quello è l'analogo dal punto di vista della matematica dello zero. O in filosofia, mi dispiace che se ne sia andato, no? Ma l'ha fatta apposta, credo, è scappata da me. Perché in realtà, in filosofia, lo zero è l'analogo del nulla. Ora, questo è il problema, che i greci non ce l'avevano lo zero. E non ce l'avevano nemmeno i romani. Perché non sapevano fare la filosofia bene, no? E, per esempio, ti scrivo un numero a caso, no? Così. Con un po' di cifre, vedi che qui ci ho messo uno zero. Per cento. Se volessi scriverlo alla maniera dei romani, per esempio, no? A parte il fatto che sarebbe un po' meno conciso, no? Però loro l'avrebbero fatto in questo modo, no? Ci avrebbero messo tre c per i cento. E poi due sbarrette per ciascun'unità, no? E viene scritto così. Vabbè, uno dice più o meno è la stessa cosa. Se lo volessi scrivere alla maniera dei greci, quello sarebbe un mal di testa, no? Perché i greci usavano le lettere dell'alfabeto per scrivere i numeri, no? Quindi, numerate, no? Ovviamente. Quindi il due corrisponde a? Beta. Brava. Vabbè, dai. E il tre? Gamma, gamma. No, perché il problema è che se facessero così dall'alfa fino all'omega, farebbero semplicemente 24 numeri, no? Allora loro avevano diviso le lettere in nove, le prime nove erano unità e questa è un'unità, poi le seconde nove erano le decine e le terze nove erano le centinaia. Quindi nove più nove, diciotto, qual è la diciannovesima lettera dell'alfabeto greco? Ah, lo dico io, va. La tau, no? E però vedete che una cosa scritta in questo modo non sembra nemmeno un numero. Tra l'altro la gematria, no? E la cabala sono nate da quella convenzione di scrivere i numeri con le lettere che poi si possono, ovviamente, interpretare in tutte e due le maniere, no? Eccetera, eccetera. Ma se vogliamo fare delle operazioni, qui ci accoggiamo subito che le cose ci complicano quando lo iscriviamo in questo modo. Ad esempio, supponiamo di voler moltiplicare questo per due. Lo sappiamo fare tutti, no? Per esempio, due per due, quattro. Due per zero, zero. Due per tre, sei. Voilà, quello è finito. Se volessi moltiplicare questo per due, come dovrei fare? Ora, per due non è tanto difficile, perché due è questo numero due volte, no? Quindi lo scriverei di nuovo così, no? E questo è il risultato. Ah, certo. Anche se non sono in ordine non importa, perché intanto sono semplicemente quello che si chiama un sistema additivo, no? Quindi sono sei volte cento, no? E due due e fa quattro, ok. Qua lasciamo perdere, perché si fa fare i conti, no? In questo modo. E se però volessi fare qualche cosa di più complicato, per esempio, se tutto l'avessi dovuto moltiplicare per tre o per quattro, avessi dovuto continuare ad aggiungere cose. Ma se volessi, per esempio, fare il quadrato. Tre cento e due per tre cento e due. Qui c'è già la prima parte, no? Quello zero. Poi qui c'è uno zero, no? Quindi si fa così, no? Zero, no? E poi dopo si fa tre per due, sei. Poi zero. Tre per tre, nove, no? Questo è il risultato, bla bla bla, no? Si fa velocemente, no? Sei più sei, due, così. Ok. Questo è il numero. Ma se lo volessi fare con i numeri romani, come si fa a fare una moltiplicazione con i numeri romani? I romani e i greci non sapevano fare le moltiplicazioni. E vi ho portato l'aggeggio che usavano loro. Guardate qua. Questo aggeggetto qua, che si chiama l'abaco, no? L'abaco. Che poi è andato in uso, diciamo, per millenni, perché ancora nel 1500 in Italia si discuteva se dovevamo adottare le cifre indiane, appunto, che arrivano dall'India, oppure se dovevamo continuare a fare i calcoli in questo modo. E i romani avevano delle tavolozze, ecco qua, ha portato la fotografia, vedete, fatte di metallo, che si mettevano in tasca, esattamente come ho fatto io. Avevano già i loro iPhone, in un certo senso, no? E facevano i conti in questo modo. E questo è il risultato, appunto, invece, di una cultura che è molto diversa da quella romana. I romani, tra l'altro, ho detto prima, ho accennato, non avevano lo zero perché non riuscivano a pensare al nulla. Parmeride, per esempio, no? Che faceva questi giochetti, no? Linguistici, no? Il nulla non esiste perché se esistesse sarebbe qualcosa, no? Oh, che bello, no? E allora si chiudono gli occhi così. O quell'altro, quell'altro, Gorgia da Lundini, che credo sia venuto proprio qua, no? Si chiamava così, no? Gorgia da Lundini, avete sentito parlare, no? E quando l'ha intervistato Lundini, lui diceva quello, no? Il nulla non esiste, se esistesse non potremmo conoscerlo, se lo conoscessimo non potremmo parlarne. E quello era mettersi, diciamo così, i paraocchi. E invece gli indiani, che non si facevano tante storie, no? Naturalmente, hanno inventato anzitutto le cifre posizionali. Gli stessi numeri significano cose diverse a seconda di dove li metti. E soprattutto questo numero, che è il buco, per l'appunto, che viene colmato quando non c'è nessun numero di quell'ordine di grandezza. Non so se ti basta o vuoi che vada avanti tutta la sera, no? Sarebbe ascoltarti i parole di precedenti, Pier Giorgio. Anche perché lo zero ha la stessa forma dell'odio di Freddi, quindi della lettera, il tuo marco di... Questo è un modo gentile di dire che lo di Freddi vale lo zero. No, tutt'altro. Questo è per dire che tu hai fatto un libro che si intitola Piccole dosi, contro la crisi di astinenza della matematica. Prima parlavamo di ludopatia, tu sei un matemopatico, quindi, cioè quando... No, perché in effetti forse il titolo non è perfettamente corretto, perché io sono un ingenuo, no? Per me crisi di astinenza della matematica voleva dire che la maggior parte della gente di matematica non sa nulla, no? Quindi è in totale astinenza, no? E dovrebbe... Invece mi hanno detto che ci sono dei riferimenti con altre cose che io non conoscevo, no? Quindi, tra l'altro io avevo fatto, l'altro anno, ti ricordi, forse l'avevamo presentato, un libro che si intitolava Pillole matematiche. Allora avevo proposto all'editore che come cosa complementare, no? L'avremmo potuto chiamare supposte matematiche. Sì, quello è quello di cui avrei bisogno io. Anche perché, no, in realtà, no, le pillole vanno giù, le supposte vanno su, eccetera. Ma sembra che non si potesse fare, quindi abbiamo fatto questa cosa a piccola. Lui ogni anno scrive un libro sperando che io, a forza di leggere sui... No, che tu ne legga almeno uno. È una speranza proprio, non riesco in... Comunque, noi ti riaspettiamo poi qua, ricordi, per una disfida con Roberto Vecchioni alla Lavagna, il derby all'ultima Lavagna. Tu farei la lezione umana... In un round? Tutte le sere io potrei venire quando lui dice qualcosa, io dico qualche cos'altro in matematica. E io e Tommaso scommettiamo, facciamo le scommesse sopra. Allora, adesso però, mettiamoci veramente...